ben trovati oggi realizzo per voi la mia schwarz plant and torte che significa la torta di grano saraceno e proprio il grano saraceno il protagonista di questa torta e non è un vero e proprio cereale dal punto di vista botanico ma spesso il grano saraceno come la quinoa viene definito come uno pseudo cereale con un contenuto proteico che lo fa somigliare ad una leguminosa in italia viene coltivato soprattutto in trentino e in valtellina regione che utilizza moltissimo il grano saraceno nelle sue variazioni come questa basti pensare anche alla polenta taragna e i pizzoccheri il consumo di grano saraceno non è consigliato soltanto a chi deve fare attenzione al glutine per motivi di salute ma tutti coloro che desiderano apportare più varietà nella propria alimentazione è raccomandato soprattutto in caso di stanchezza e di affaticamento per ritrovare energie e per fornire all'organismo preziosi nutrienti per realizzare questa torta è importante che il burro e le uova siano a temperatura dai 15 ai 20 gradi centigradi aromatizzate il burro appomata con la scorza del limone finemente grattugiata montate il burro e lo zucchero in planetaria con la frusta poi battete le uova e aggiungete la filo nel composto a parte riunite in una ciotola la farina di nocciole con quella di grano saraceno e il lievito per dolci lavorando con una frusta per miscelare bene gli ingredienti unita a mano il composto secco in quello umido a base di burro e uova aiutandovi con un ampio cucchiaio effettuando movimenti delicati dal basso verso l'alto per non smontare la massa infine sbucciate e grattugiate finalmente la mela e aggiungetela all'impasto versate il composto in uno stampo ben imburrato ed infarinato cospargete la superficie con poco zucchero a velo e incidetela delicatamente con uno stuzzicadenti per creare un motivo decorativo cuocete la torta inserendola in forno preriscaldato a 200 gradi cuocendola 10 minuti e poi abbassando a 155 gradi centigradi per altri 35 40 minuti circa una volta sfornata lasciate riposare la torta fuori dal forno fino a completo raffreddamento poi sformate la torta tagliatela in due dischi aiutandovi con un coltello posizionate il disco di base su un piatto da portata e ricopritelo con generosa confettura di mirtilli da portata e ricopritoro e volti per la torta tagliatela in dove vi trompa Ricoprite il tutto con il secondo disco di torta, cospargete con zucchero a velo e servite in tavola. Con questo ho terminato. Mi raccomando, buona cucina a tutti. Grazie.